Kernika di Picasso del 1937 raffigura, come sappiamo, la guerra in concreto, ma per estensione può essere assunta come l'immagine paradigmatica della notte del mondo, per dirla con Hölderlin, la Weltnacht, la notte nel mondo in cui è sprofondato l'Occidente, con la guerra quotidiana per la sopravvivenza a cui condanna l'umanità tutta. L'opera di Picasso raffigura una vera e macelleria sociale, tra sofferenze e traumi gravissimi che vengono raffigurati con poderosa forza espressiva dal pittore, ma vi è un particolare sul quale vorrei celermente richiamare l'attenzione, questo particolare riguarda l'immagine di una donna che si protende fuori dalla finestra e con una mano prova a portare avanti la lampada con la quale getta luce sulla scena del disastro raffigurata da Picasso. Ordunque, quest'immagine della donna che fa luce sulla scena della tragedia mi pare essere l'unica forse pur tenue nota di speranza nel quadro di Picasso, che ripeto raffigura una vera e propria tragedia in atto che è anche la nostra, di noi abitatori, della violenza quotidiana immanente del sistema del libero mercato, che meglio sarebbe definire libero cannibalismo deregolamentato. Bene, quella nota positiva della donna che si protende con la luce per rischiarare la scena credo possa assumersi come immagine della critica e del suo compito fondamentale. Se oggi la filosofia ha una ragione fondamentale di esistenza, ciò dipende soprattutto dalla sua funzione critica, dalla sua capacità di mostrare la falsità totale in cui siamo e di respingerla, non già in nome di un vacuo scetticismo relativistico e nechilistico, proprio di chi rinunzi alla ricerca della verità e quindi proclama falso tutto ciò che lo circonda. Al contrario, la ragione filosofica procede in vista della verità e quindi smaschera ciò che si pretende vero ma che tale non è. Ecco perché il compito fondamentale è quello di gettare luce, facendo sì che le tragedie che quotidianamente il sistema globocratico produce non restino invisibili, vengano portate alla luce. O riprendendo ancora Heidegger, che fu lettore e grande estimatore di Hölderlin, come sappiamo, occorre reagire alla notte del mondo, anzitutto portando luce sulla scena in cui ci troviamo. Heidegger, nei Sentieri Interrotti, scrive che l'Occidente è precipitato in un buio talmente tenebroso che diventa financo impossibile prendere coscienza del buio in cui si è. Ecco perché la morte di Dio e la svalorizzazione dei valori niccianamente non sono più nemmeno avvertiti come un problema, vengono vissuti come fisiologici o meglio nemmeno sono più visti nel tempo della Weltnacht. Ecco quindi l'importanza, ripeto, dell'immagine di Picasso, della donna che in Guernica si allunga con la sua lampada a gettare luce sull'accaduto. Tra i compiti più peculiari della critica figura oggi senz'altro quello di gettare luce sul buio imperversante, di modo che appaiano visibili le cose che altrimenti non lo sono o, se si preferisce, di modo che ciò che capita sempre non venga più percepito come normale, di modo che l'inimmaginabile che oggi è stato reso plausibile torni ad apparire per quello che realmente è e per essere visto nella sua contraddizione reale. Tra i compiti della critica dunque vi è la demistificazione della realtà falsa in cui viviamo e poi il tentativo di fare luce in vista di una ricategorizzazione alternativa del pensiero che funga da motore in vista di una palingenesi che possa portare alla redenzione rispetto al l'ordine sempre più iniquo della globalizzazione. La signora tratteggiata da Picasso potrebbe essere virtualmente la filosofia che getta luce, che rischiara lo scenario, di modo che gli oppressi anziché seguitare a subire gli attacchi concentrici della globalizzazione capitalistica possano costituirsi come soggettività antagonistica, come servo nazionale popolare, come amo dire, e reagire a questo processo ogni giorno più iniquo che si chiama pudicamente globalizzazione. Ecco quindi, ripeto, l'importanza di quell'immagine ecco perché in Picasso e come sempre avviene nell'arte troviamo la più potente forma espressiva di ciò che la mediazione del concetto pure esprime ma in forma meno potentemente efficace. Il compito quindi è quello di fare luce essenzialmente, di produrre un rischiaramento che si ponga come base reale per un'emancipazione. Senza la preventiva comprensione dei drammi del presente nemmeno è possibile articolare forme di dissenso ragionato e di organizzazione corale della reazione rispetto a questo dissenso. Ancora una volta l'arte ci fornisce la chiave per comprendere ed emistificare le contraddizioni.